Mi scusi, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha reso un grande servizio alle istituzioni, è stato eletto da noi, dal PD e con il concorso dalla lista civica. Ci sono state una serie di forze politiche che hanno fatto questo, dalla Lega. Ebbene, un governo è un governo nella pienezza delle sue funzioni, dei suoi ruoli, con un programma molto impegnativo sia per la parte economica che per la parte istituzionale, e deve essere fatto da forze che non si vergognano reciprocamente ma che realizzano questo impegno, altrimenti non si capisce il senso del loro sostegno al governo. Sarebbe un'operazione all'insegna dell'ipocrisia destinata a durare tre mesi e noi non abbiamo bisogno né dell'ipocrisia né di una durata brevissima per andare ad elezioni. Qualora manchi la capacità e il coraggio di fare un'operazione politica, allora purtroppo alle elezioni bisognerebbe andarci subito. Noi ci auguriamo invece che riusciamo a prendere il toro per le corna e a fare un governo degno di questo nome, cioè un governo politico.